Fra pochi giorni riaprono le scuole e migliaia di famiglie italiane in questi giorni sono le prese con il caro scuola. Le spese per alunno nel corso dell'anno nelle Marche, ci dice il Codacons, può arrivare fino a 500 euro ed oltre, a seconda di età ed indirizzo scolastico. In tutto questo quasi due terzi della somma va a coprire l'acquisto per i libri di testo. Il restante copre spese per accessori, zaini e borse, diari, astucci, penne e acquisti di materiale tecnico. Una giungla nella quale mamma e papà si trovano tra l'incudine e il martello, i figli che spingono su prodotti pubblicizzati o griffati ed esigenze di bilancio, soprattutto se i figli sono più di uno. Ad oggi la maggior parte delle famiglie sul fronte dei libri di testo opta con un mix tra usato e nuovo. E cambiano anche i canali di approvvigionamento con un 47% delle famiglie che si rivolge alle classiche cartolibrerie ed il restante 53% alle grandi catene di distribuzione che offrono scontistiche che possono arrivare fino al 30%. Sono 3-4 anni, anzi anche più, che portiamo avanti questa politica con degli sconti mirati appunto per l'acquisto dei libri scolastici. Ecco, registrate un incremento di questa tipologia di clienti? Sì, anno dopo anno sinceramente c'è un incremento di questa tipologia di ordine dei libri. A lato dell'acquisto noi rilasciamo uno sconto, un buono sconto, del 25% del costo sostenuto per i libri che poi utilizzeranno successivamente per la spesa quotidiana. Ma in aiuto delle famiglie arrivano anche i consigli del Kodakons per abbattere i costi. Non inseguire le mode o gli oggetti griffati si risparmia fino al 40%, preferire la grande distribuzione o il supermercato si riesce a risparmiare fino al 30% e poi non tutto è subito, rinviare gli acquisti non necessari, aspettare i professori per gli acquisti tecnici con passi, dizionari eccetera e approfittare anche delle offerte promozionali, kit a prezzo fisso. In aiuto delle famiglie italiane arriva anche la tecnologia con delle app scaricabili sui dispositivi digitali che aiutano a districarsi tra offerte e prezzi. Pitch My Book per comprare e vendere libri usati, Uppi per stampare appunti e dispense e DiarioDiscuola.net, un diario tutto digitale.